Sono convinto che bisognerebbe evitare che la memoria, le commemorazioni diventino uno stanco rituale privo di contenuti. Credo che se vogliamo veramente onorare la memoria non soltanto del dottore Falcone, del dottore Borsellino, di tutti quei servitori dello Stato, fedeli servitori dello Stato che per essere stati tali hanno sacrificato la vita, credo che dobbiamo fare ovviamente ciascuno il suo compito, proseguire il lavoro che loro hanno iniziato. Oggi ci sono tante lacune, tanti momenti della cosiddetta lotta alla mafia che richiedono interventi decisi, è necessario colmare certi vuoti che ancora oggi ci sono. Tutti siamo d'accordo nel sostenere che il momento repressivo della lotta alla mafia ha conosciuto ormai i livelli di efficienza mai conosciuti prima. Abbiamo una polizia, diciamo genericamente polizia, polizia giudiziaria, polizia, carabinieri, guardie di finanza, una polizia sicuramente fra le migliori del mondo. Ci sono stati tanti risultati, lati tanti e arrestati quasi tutti, resta fuori soltanto Matteo Messina Denaro. Ci sono tanti altri aspetti positivi, il coinvolgimento di tante associazioni che lavorano sull'educazione alla legalità, abbiamo la forte iniziativa di Confindustria, stentiamo a fare il passo successivo che è il passo di incidere su quelle che vengono chiamate le relazioni esterne di Cosa Nostra. Non si riesce a incidere seriamente su quello che viene definito ormai da tutti gli studiosi di Cosa Nostra, nei settori affaristico-politici e così via, roba che sappiamo tutti, quella cosiddetta aria grigia, quella cosiddetta borghesia mafiosa. Fino a quando non si troverà la forza di incidere in maniera seria su questo aspetto di Cosa Nostra, credo che la soluzione del problema e quindi il vero rispetto della memoria di chi si è impegnato a fondo, sarà incompleto, dovremo ancora lavorare a lungo e in questa fase, su questo aspetto, credo che sia fondamentale l'azione della politica che credo dovrebbe dare un segnale molto forte alla gente. Qui la gente nella nostra terra vive molto di messaggi, la gente crede molto nella politica, negli uomini politici. Ecco, se da Costoro non vengono messaggi univoci e forti, di distanza da tutto ciò che ha anche il più lieve sapore di mafia, potremo discutere a lungo, abbiamo un'antimafia parlata che voi non avete idea, sono tutti bravissimi, è una gara chi la dice più grossa. Poi quando però si tratta di fare delle scelte concrete di qualunque calibro, non parliamo poi di scelte che comportano eventualmente per restare fedeli ad un'etica antimafia, di rinunciare a certe poltrone, come sappiamo noi. Ecco, a Palermo siamo fermi alle belle parole, all'esercito di Parolai, esercito che presenta fughe in ogni momento ed è una cosa vergognosa perché viviamo in una terra in cui per non fuggire dalla serietà della lotta antimafia c'è tanta gente che ci ha rimesso la vita, come sappiamo. Qui per una poltrona si rinnega il proprio passato, si rinnegano le proprie origini, si rinnegano tanti momenti di tensione, di vera tensione antimafia che tanti gruppi hanno avuto in questa terra. Qui per il potere si dimentica tutto, altro che memoria. Quindi io spesso auspico che alle commemorazioni non partecipino certi soggetti, la cui vicinanza alle organizzazioni mafiosi è nota. Ma questi principi non vengono colti facilmente nemmeno da una parte della società palermitana. Ecco perché io recentemente ho chiesto in un'occasione di incontro a Torino al Ministro dell'Interno, ho detto esplicitamente che abbiamo bisogno di un aiuto forte da parte di questo governo, un intervento legislativo forte che colpisca certi momenti importanti, come è stato già sottolineato. Noi abbiamo una norma che pulisce il voto di scambio mafioso, il voto in cambio di denaro. La storia della mafia ci insegna che il capomandamento, il capomafia non ha bisogno di denaro per avere i voti. Al posto di questa espressione di denaro bisognerebbe aggiungere qualunque utilità. E poi c'è una maniera seria, ci sarebbero tante maniere per incidere sulla necessità di non consentire a certi personaggi di accedere a certe cariche istituzionali rappresentative del popolo siciliano. Il problema non è individuale, è un problema di regola. La gente deve avere questo messaggio, chi ha avuto rapporti col mondo mafioso ha posto in essere una condotta disdicevole dal punto di vista etico, al di là della sua rilevanza penale. 12.45. AM. E' un popolo di gente che è stato massacrato dalla mafia. Quindi chi ha avuto contatti con quel mondo non è degno di rappresentare i siciliani.